Siamo con l'On. Gianfranco Chiarelli, Vice Coordinatore Regionale Pugliese della Lega. Commentiamo così queste visite di Salvini a Taranto e provincia. Diciamo che c'è stata veramente, anche magari non prevista, un grandissimo entusiasmo, una grandissima folla, ma in tutti i comuni, iniziando da Motola, ieri la gente sui balconi che aspettava il suo arrivo, dalle finestre, per poi passare a Taranto. La piazza di Taranto è emblematica di come c'è voglia di Lega, c'è voglia di Matteo Salvini. Io intanto voglio ringraziare le forze dell'ordine anche per l'ottimo lavoro svolto per i soliti facinorosi. Però ieri Taranto è stata una piazza gremitissima, Piazza della Vittoria, che è una piazza anche abbastanza grande, per cui non si vedeva, secondo me, tanta gente dei tempi dei comizi di Cito. Questo significa che la Lega cresce, significa che vi è grande entusiasmo, grande attenzione sui temi che Matteo Salvini pone.